Nuovo look per la biblioteca Salvatore Zuppardo dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, il centro culturale della scuola diretta da Viviana Aldisio è stato rinnovato grazie alla collaborazione di numerosi professionisti. Cerchiamo di lavorare sul miglioramento continuo e proprio per questo cerchiamo anche di migliorare, strutturare gli ambienti di apprendimento sempre di più per lavorare su quello che è il potenziamento dei ragazzi. Un ambiente sano e un ambiente adatto alle attività che la scuola propone già è un punto di partenza corretto e vincente per il raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo realizzato ciò pensando ai piccoli e ai grandi, è un istituto comprensivo e quindi abbiamo anche deciso di dedicare un'area proprio ai bambini piccoli, ai bambini di 5 anni, prima elementare, seconda, terza elementare ma anche poi più grandi perché chiaramente la scuola secondaria di primo grado dà uno spazio molto importante a quella che è la lettura e il potenziamento della lettura. Il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo ha donato alla biblioteca 500 libri di poesie e narrativa. Nonostante la crisi dei poeti sia evidente, ce ne accorgiamo dai tanti numeri di partecipanti al premio Gorgone d'Oro che comunque fanno registrare un calo delle adesioni, nonostante questa crisi c'è davvero l'esigenza di scrivere, c'è davvero l'esigenza di esternare i propri sentimenti e di raccontare l'attualità attraverso la poesia. Ce l'ha dimostrato anche Nino Frassica con la sua poesia a mare si gioca nell'ultimo intervento a Sanremo 2016 proprio perché c'è la volontà da parte di chi scrive di esternare i sentimenti ma soprattutto di mettere nero su bianco ciò che è l'attualità, ciò che sono le emozioni, ciò che sono i sentimenti attraverso la poesia. Quindi un percorso che nasce in collaborazione con l'Istituto Verga per promuovere la poesia anche attraverso i ragazzi. In occasione dell'inaugurazione di ieri gli studenti hanno dato vita ad un recital di poesia accompagnato al piano da Emanuele Ducchetta. La serata è stata impreziosita da una performance di Flauti diretta da Rita Scuvera.